a tutti amici e amiche di quinta dimensione letture bentornate tutti gli affezionati iscritti e benvenuto o benvenuta se sei una nuova persona che sta ascoltando me per la prima volta quindi ti invito anche ad iscriviti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica dei miei video quindi dovresti anche cliccare su tutte poi eventualmente quando clicchi su iscriviti allora oggi andiamo con un'altra delle frasi magiche alcune ne ho preparate diverse per questioni che mi avete richiesto anche urgenti quindi ve lo sto facendo proprio di cuore perché comunque capisco anche questo tipo di esigenze della vita che purtroppo purtroppo molti hanno e riguardano la risoluzione di problemi legali quindi oggi andiamo a vedere sempre grazie alle frasi testate sperimentate da cristiano tenga che ha scritto i libri delle parole magiche quindi a lui vanno insomma tutti i crediti e ringraziamenti del caso per quanto riguarda tutto ciò che è legale che si deve sbloccare sia che sia già arrivato in tribunale o che ancora non sia arrivato in tribunale poi vi spiego per ogni frase per trovare meglio la vostra quella che è più adatta a voi e quindi comunque sia ve lo faccio veramente di cuore grazie anzi a chi me l'ha richiesto lo avevo già in mente di farlo comunque però andiamo celermente a farlo perché avevo anche altri video da mettere ma questo adesso ve l'ho dovuto proprio mettere perché ci sono cose urgenti per tanti di voi perciò molto volentieri ve lo faccio tanto o prima o dopo insomma non è non è quello l'importante poi si deve arrivare oggi che ti è arrivato si vede che deve arrivare questo momento no sappiamo tutti la sincronicità divina non sbaglia mai quindi allora dopo ricordatevi nell'info box nella descrizione del video sotto di cliccare andare a vedere bene come si scrivono io ve le metto in sovraimpressione però poi andate sempre a leggere la descrizione del video dove spiego anche il discorso genesa per chi ce l'ha ma anche per chi ha la pentasfera è lo stesso è cambia solamente il discorso del lato della genesa o pentasfera allora iniziamo con la prima frase che è diciamo prima che ok che una questione arrivi in tribunale quindi partiamo da prima il tribunale ci arriviamo dopo allora prima che una diatriba ok risolvere una diatriba prima che arrivi in tribunale e la parola magica da ripetere dalle tre alle cinque volte dalle tre alle cinque volte ok per tre volte al giorno va bene adesso ve la dico tre volte io ve la dico tre volte per farvi capire anche come si pronuncia e anche l'accento poi dopo voi prendete nota di tutto o fate gli screenshot nella descrizione del video dove ve le metto proprio con gli accenti già giusti poi vi spiego come si fa eventualmente per chi ha la genesa vi ricordo perché vedo che me lo continuate a chiedere ma basta che ascoltate i video ok allora non è fondamentale mettere la parola in genesa lo dico e spero che sia chiaro non è fondamentale è un aiuto in più della geometria sacra che ci viene incontro per aiutarci per questa forma perfetta di energia già fatta ok può solo che potenziare quindi le stesse parole che adesso io vi dico le recitate dalle tre alle cinque volte al giorno per tre volte al giorno senza genesa chi non ha la genesa ok e va bene lo stesso ragazzi funziona lo stesso se lo fai con fede e convinzione chi ha la genesa poi spiego come ok allora risolvere quindi questa diatriba prima che arrivi in tribunale la parola magica è solvo dia solvo dia solvo dia allora la potete dire così dalle tre alle cinque volte al giorno tre in tre momenti diversi che ne so tre cinque volte la mattina tre cinque volte il pomeriggio tre cinque volte la sera fate voi sottolineo che la paura di sbagliare ragazzi non va bene quindi se vi siete ricordati solo una volta quel giorno di dire le cose non importa va bene l'importante è la fede e la convinzione allora chi ha comunque anche la genesa può mettere ripeto sempre nel post it quadrato di qualsiasi colore va bene con pennarello nero scritto in stampatello e metterlo dentro la genesa allora si può mettere sia sul fondo va bene però però siccome la maggiore concentrazione di energia ok è nella metà sia della genesa che della pentasfera è qui a questa altezza prendiamo il bicchierino dell'altezza giusta per le genesi più grandi ci sono poi metterete dei bicchieri più grandi dopo aver scritto la stessa frase che avete recitato la mettete così diciamo ad un'altezza che arriva più o meno alla metà ok della genesa o della pentasfera se per voi ok sul lato quadrato se include comunque ma in questo caso includerà sicuramente altre persone la volgete sul lato triangolo vi faccio vedere qui sta sul lato quadrato perché la posizione naturale della pentasfera è sul lato quadrato questo è il lato triangolo quello quindi lato triangolo bicchierino ok e post it con la frase qualcuno se vuole può aggiungere anche i nomi va bene se ci sei anche tu in mezzo puoi usare anche per te il lato triangolo va bene però ti devi scrivere sempre anche tu con la tua data il tuo nome ok però ascoltate non è fondamentale questo l'importante la recitazione della frase comunque sia solo recitata ma anche se la metti qua puoi scrivere solo la frase se vuoi aggiungere puoi scrivere anche altri nomi se vuoi è però togliamoci quest'ansia di tutti questi sbagli tutte queste cose ragazzi la fede la convinzione l'universo li premia con senza genesa ok e la recitazione delle cose e l'intenzione che ci metti che fa avverare le cose allora questo era per una diatriba prima che arrivi in tribunale oppure diciamo anche una diatriba quindi un conflitto di vecchia data che finisca finalmente prima che arrivi in tribunale ok quindi aiuterebbe a trovare delle soluzioni amichevoli prima di andare a finire in tribunale ragazzi ok cercate di trovare delle soluzioni amichevoli la frase è questa quindi prima di arrivare in tribunale sempre tritaida terminus ok questa è la stessa cosa solo a voce o chi ha la genesa e la pentasfera ok può mettere dentro con o senza bicchierino la questa frase che volete e la mettete dentro allora ragazzi solo un'ora al giorno i fogliettini dentro è solo un'ora al giorno poi li togliete invece la recitazione delle parole dalle tre le cinque volte al giorno è senza genesa intendo proseguiamo se vi interessa ok che questa diatriba abbia un esito positivo ok quindi c'è già comunque diciamo una causa va bene qui siamo arrivati in tribunale ragazzi quindi se c'è già una causa e volete che abbia questo esito positivo ma è chiaro chi è che non lo vuole no però è sempre specificato nelle parole magiche tutto questo è sembra stupido sembra scontato ma è sempre meglio scriverlo e specificarlo quindi una diatriba che abbia fine con esito positivo per chi la recita quindi ci devi sta di mezzo tu ok la frase è questa poi ragazzi per ottenere giustizia ok per ottenere proprio una giustizia dove quando vi sentite veramente che vanno fatto qualcosa di ingiusto ma questo qualsiasi cosa nella vita al di là dei tribunali questo è per ottenere una giustizia quindi una preghiera anche personale ok che fate per ottenere una giustizia qualsiasi essa sia e vi sentite fortemente che dovete avere giustizia ok quella cosa interiore proprio che ve lo dice ok la frase è questa equitatem in petro equitatem in petro equitatem in petro questa è per voi stessi ragazzi equitatem in petro quindi la giustizia quindi la giustizia che la vuoi ottenere tu se vuoi aiutare qualcun altro ad avere giustizia quindi qualcun altro devi dire questo equitatem in petrat equitatem in petrat dopo in petrat mettete il nome della persona e se l'avete anche la data di nascita se no anche nome e cognome ok quindi per voi stessi si apre con equitatem ma dite in petro per gli altri aprite sempre con equitatem e dite in petrat seguito dal nome e cognome della persona e se avete anche la data di nascita ok quindi questa pure può servire ragazzi quando c'è bisogno proprio di una giustizia che sia legale di tribunale ma non solo questa è proprio una giustizia a livello proprio di tutto eh per livello proprio di qualsiasi cosa avete bisogno per velocizzare e far terminare una controversia sempre giuridica quindi già siamo arrivati in tribunale non finisce mai cose che si rimandano di continuo dirimo 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 ok poi ragazzi ve ne metto un'altra l'ultima che ce l'ho voluta abbinare io perché non è per la giustizia ma è per la fortuna ragazzi è per la fortuna perché ce la vedo bene con queste cose qua ce l'ho associata io di mio istinto quindi se me l'ho sentito di farlo vuol dire che lo dovevo fare allora per far girare la fortuna a tuo favore in tutti i campi poi l'universo sa qual è il campo che tu stai pensando non c'è bisogno di dire in ogni foglietto in ogni frase 10 milioni di cose ok l'importante è la frase che tu adesso qui senti e che scrivi quello sempre è importantissimo però in tutti i settori di cui tu puoi aver bisogno di fortuna la frase è questa può essere anche i soldi quindi che ti arrivino più soldi che riesci a vendere e acquistare la casa che riesci per il lavoro tutte queste cose qua la frase è questa rotam fortune converto promeo rotam fortune converto promeo rotam fortune converto promeo ricordo l'ultima volta dalle tre alle cinque volte al giorno per tre momenti diversi della giornata potete fare mattina pomeriggio sera ok anche senza genesa funzionano per chi ha la genesa la posizioni se per se stesso sul lato quadrato la cosa quindi mette il bicchierino c'è la maggior concentrazione di energia ragazzi in mezzo però insomma anche se lo appoggiate alla fine sulla base senza bicchierino perché avete una fretta di vostra eccetera alla fine non è quello basta che sta dentro questo dispositivo poggiate sopra il post it mi raccomando quadrato di qualsiasi colore con scritta la frase con la penna nera in stampatello penna nera stampatello ok se per altri metteteci il nome degli altri dopo la frase ok il nome degli altri se avete anche la data di nascita prima la frase questa qui in latino poi nome cognome data di nascita della persona se per altri meglio il lato triangolo ok sul lato triangolo se fate qualcosa per qualcun altro inserite il post it se non c'avete il bicchiere lo mettete così ok se non avete il bicchiere chiaramente chi è che non c'ha un bicchiere allora il bicchiere mettete il bicchiere e sopra il post it ok più o meno dell'altezza avrete voi che vada ecco questo ce lo sarebbe qui serviva magari un pochino più alto ma sempre vabbè comunque mettete comunque il bicchiere dell'altezza giusta che vi fa arrivare il fogliettino a metà si può fare anche dei fili così no qui il filo che ti appende comunque diciamo la frase scritta poi siccome la parte del post it vedete qui è appiccicosa ci potete mettere una foto ci potete mettere un testimone di qualcuno se è per voi il vostro se volete se volete ragazzi se volete sul lato triangolo va bene anche per il proprietario quindi anche se ci sei tu però ti devi scrivere nel fogliettino assieme all'altra persona ti devi scrivere anche tu va bene quindi queste poi vattene a rivedere segnati quelle che ti interessano se ti interessano tutte te le segni tutte se no ti prendi quelle che ti interessano adesso andiamo avanti con un messaggio per te visto che sei qua non metto segnalini vari andiamo a vedere anzi oggi la voglio mettere di qua fissazioni strane allora ti faccio scegliere la carta 1 la carta 2 o la carta 3 e vediamo la sincronicità divina che ti ha portato qua ad ascoltarmi e ad aprire questo messaggio vale sempre qualsiasi momento apri il video ok allora vediamo un po' la carta 1 la carta 1 primo messaggio la carta 2 secondo messaggio la carta 3 terzo messaggio scegli la 1 la 2 o la 3 e vediamo che cosa c'è per te oggi che sei venuta o venuto qui ad ascoltare vediamo vediamo un po' vado ed inizio con chi ha scelto la prima carta ok dei miei messaggi divini oracolo sta per arrivarti del denaro 888 buon auspicio perfetto perfetto se stavi aspettando un qualcosa di economico perché perché ne avevi bisogno perché ne hai fatto richiesta tanto tempo fa perché le cose non ti sono andate benissimo ultimamente sta per arrivarti del denaro potrebbero essere anche cose pregresse cose vecchie perché no che vanno a sbloccarsi grazie alle nostre parole magiche oppure anche grazie ai nostri meravigliosi strumenti come questi che va a sbloccarsi qualcosa comunque sta per arrivarti del denaro quindi se la cosa della natura legale che ti interessava era pure riferita ai soldi tra l'altro ci ha dato anche un doppio messaggio quindi vuol dire che qualche parola magica che potrai fare eventualmente funzionerà perché sta per arrivarti del denaro per quelli di voi che sono in tribunale comunque a fare queste cose per soldi se è per altri motivi per carità però ti arriva i soldi lo stesso non è il discorso tribunale ma ti arrivano da un'altra parte chiaro no? quindi questo è un messaggio per te buono 888 sempre buone notizie sempre questioni economiche che si vanno a risolvere e tutte queste cose qua va bene? carta 1 ti ringrazio procedo con la carta 2 perché hai scelto la seconda carta il messaggio è le questioni terrene della quinta dimensione della terza dimensione sono illusorie ricordati di chi sei 0 0 0 1 rafforzati e devolvi allora le questioni terrene della terza dimensione sono illusorie quindi qui c'è da risvegliarsi c'è da togliersi qui qualcuno si è infangato ragazzi si è impantanato dentro al fango con sti piedi e non riesce a venire su è tutto illusorio ragazzi qua nella terza dimensione è tutta una matrix vedetevi i film chi non l'ha visto è tutta una programmazione quindi dobbiamo essere talmente bravi e intelligenti noi che siamo qua nella terza dimensione ad elevarci ricordati chi sei ricorda il potere divino che hai stesa 2 carta 2 ricordatelo questo è un chiaro messaggio per te che sei qui adesso ad ascoltare ti devi risvegliare ti devi ricordare chi sei rafforzati ed evolvi è il consiglio per te qui c'è bisogno di una evoluzione perché probabilmente così non può andare più avanti per te carta 2 c'è bisogno di una evoluzione che ti darà anche più forza ok ti darà mano mano che evolvi che cresci spiritualmente e personalmente con il lavoro tuo interiore ti sentirai rafforzato o rafforzata come persona l'evoluzione a volte può portare degli scompensi energetici della stanchezza dei dolori che rivengono a galla ma non vi preoccupate anche quando fate i decreti le parole magiche le cose e vedete qualcosa di strano non vi dovete preoccupare ok non c'è bisogno di preoccuparsi passa sempre a volte questi cambi energetici a volte ci scombussolano un po' dormiamo male vediamo delle cose strane cose che non pensavamo da dieci anni adesso le pensiamo ancora certo perché l'energia che cambia e che si evolve butta fuori tutto il negativo che c'è ancora dentro questioni irrisolte questioni vecchie le riviviamo per poi rilasciarle quindi non vi preoccupate va bene carta 2 mi raccomando carta 3 in questo momento la connessione con il regno angelico e le tue guide è molto forte 13 31 44 ti porterò gioia e tranquillità questo è un chiaro messaggio dall'altra dimensione dal reame angelico ma non solo perché le guide spirituali possono essere anche dei maestri ascesi ok possono essere diverse figure quindi qui è molto forte la tua connessione va bene quindi qua probabilmente ricevi anche dei messaggi puoi ricevere delle intuizioni puoi ricevere delle guide su che cosa fare su come procedere va bene quindi qui è bellissimo 13 31 44 possono essere dei numeri significativi per te che già conosci o che a breve ti si svelerà perché ti sono venuti questi numeri possono essere dei giorni dei numeri civici dei numeri delle date di nascita ok che fanno parte di qualcuno che pensi delle persone che conosci qualcosa significheranno pure ok comunque cercate i significati angelici dei numeri ragazzi che vi compaiono specialmente di quelli che vi compaiono che vi compaiono tre volte o più specialmente durante il giorno non è che se una volta vedete un numero sincrono che ne so 13 31 come questo per una volta chissà che cosa significa vi deve comparire spesso per avere un significato questa cosa ok che ne so sempre le 0000 sempre le 11 11 sempre le 22 22 ok o anche i reversibili le 12 e 21 non è che basta una volta per dire è un messaggio divino deve essere più di una volta ok per andare proprio ad interrogarsi ma perché io vedo sempre questo numero ok quindi carta 3 tu sei particolarmente connessa in questo momento o connesso con il regno angelico quindi ci sono dei messaggi che ti stanno anche arrivando cerca di percepirli mi raccomando perché qua ti dice tra l'altro ti porterò gioia e tranquillità molto bene per te molto bello questo messaggio vuol dire che stai andando verso la strada della risoluzione ma che ne so magari anche grazie alle parole magiche che reciterai ma comunque sia al di là di quelle c'è proprio una protezione e una vicinanza nei tuoi confronti da parte di altre dimensioni va bene grazie a tutti di avermi seguito ragazzi e ragazzi mi raccomando le parole magiche fede convinzione non ve le dimenticate va bene cercate sempre di farle chi ha la genese la usi ok su questo canale poi c'è anche la spiegazione di come attivare le genese come si attivano quando vi arrivano a casa cosa si può fare il raggio d'azione di ognuna che cosa recitare anche per l'attivazione eccetera le istruzioni diciamo il come fare allora io vi saluto vi ringrazio ancora guardatevi altri video sul mio canale anche nella lista delle playlist ci sono dei video completi per ogni sezione ok di questo canale ringrazio tutti quanti veramente tanti anche e soprattutto i nuovi iscritti e vi aspetto presto in un prossimo interattivo ciao a tutti e grazie e grazie a tutti